in paypal qualcosa sta cambiando finalmente il turnaround potrebbe essere iniziato il nuovo cielo di paypal alex chris ha iniziato la sua prima earnings call dicendo ci sono delle sfide da affrontare sono una persona che parla chiaramente e con trasparenza se faremo le cose bene le metterò in evidenza se invece ci fossero cose che potremmo fare meglio e problemi che potremmo risolvere non avrò alcuna esitazione a parlarne poi ha continuato mettendo in luce quali sono le domande su cui sta lavorando in maniera maniacale per trovare le giuste risposte siamo abbastanza concentrati sull'allocazione delle nostre risorse stiamo eseguendo con eccellenza i lavori più importanti per offrire al cliente un valore superiore rispetto agli altri stiamo lavorando con i nostri clienti in modo da portare loro grande valore ma allo stesso tempo ripagare gli investitori di paypal poi ha concluso il suo discorso introduttivo ricordando a tutti che paypal resta comunque una società ad alta crescita la società sta continuando a crescere nonostante tutte le paure che ci sono in giro la società sta portando ottimi risultati gli eps stanno crescendo e ricavi pure quindi la società continua la sua fase di crescita come sapete già sto seguendo paypal da un bel po di tempo e potrebbe essere l'azione perfetta per il mio portafoglio di fredom24 perché in quel portafoglio non ho singole azioni tech o lqq o tqqq che sono due tf e o bailey v ford che è quotato come se fosse un'azione in uk ma è di fatto un fondo che investe in società tecnologiche però non ho alcuna singola società tech quindi paypal potrebbe essere perfetta per quel portafoglio tra l'altro strumenti come lqq tqq e bailey v ford sono molto rari da trovare nei vari broker e nelle varie banche con f24 invece sono riuscito a trovarli esempio pratico bailey v ford non ce l'ho né su the giro né su fineco ma su fredom24 sì quindi sono riuscito ad investirci grazie a loro questa è l'ennesima dimostrazione che fredom24 offre veramente una gran quantità di strumenti in cui investire a commissioni molto ma molto basse mi piace molto il fatto che su questo broker una possibilità di scelta veramente enorme tra azioni quasi provenienti da tutto il mondo oltre a questo mi piace molto anche come si presenta in maniera visiva l'app perché posso ad esempio vedere le percentuali delle azioni che compongono il mio portafoglio con un semplice click l'app secondo me è veramente molto bella e organizzata molto bene soprattutto quando vuoi visualizzare il tuo portafoglio molto meglio rispetto ad eghiro ad esempio oltre a questo nel caso in cui tu avessi qualsiasi tipo di dubbio di domanda o di difficoltà puoi tranquillamente contattare il customer service il team di supporto alla loro email in lingua italiana se vuoi aprire un conto con fredom24 trovi il link affiliato nella descrizione sotto a questo video e per il primo mese non pagherai alcuna commissione quindi il nuovo CEO di paypal vuole migliorare le cose vuole cambiare la situazione della società vuole riuscire ad ottenere una crescita profittevole infatti il suo focus il suo target sarà quello di riuscire ad aumentare i ricavi ma soprattutto ad aumentare gli utili il CEO Alex Chris è riuscito a capire che si paypal è in una fase di crescita ma allo stesso tempo è anche in una fase di maturità la crescita sta comunque rallentando e adesso è il momento di fare tanti ma tanti soldi di migliorare i margini di lavorare su quelli una cosa che mi è piaciuto molto è stato il fatto che ha spesso parlato di come voglia migliorare l'esperienza del cliente sembra essere veramente interessato a migliorare i prodotti che la società offre e renderli sempre più interessanti per i clienti questa è una cosa ottima perché spesso magari il management si concentra più su fare soldi su pagare dividendi su fare buyback su fare contenti gli azionisti piuttosto che su quello che la società offre effettivamente ai suoi clienti mentre Alex Chris mi sembra molto interessato ed intenzionato a migliorare ciò che la società offre al suo cliente ma allo stesso tempo vuole migliorare anche l'efficienza della società infatti ultimamente i margini sono stagnanti o in decrescita stanno un pochino peggiorando e sono sicuro che ci sono molte cose che potrà fare per riuscire a migliorarli di solito queste società così grosse hanno problematiche interne hanno magari reparti in cui ci sono troppe persone persone che non fanno niente quindi i posti dove tagliare ci sono sicuramente i margini possono sicuramente essere migliorati a mio avviso la mia prima impressione di Alex è stata veramente ottima inizialmente sinceramente quando hanno scelto questo CEO sono rimasto un po perplesso perché pensavo avrebbero potuto trovare qualcosa di meglio qualcuno di più esperto però in questa prima call mi è piaciuto molto perciò gli do sicuramente il beneficio del dubbio sembra aver individuato quali sono i problemi e dove si debba migliorare e soprattutto sembra aver capito che è arrivato alla fase di maturità è il momento di concentrarsi sui margini e sul trasformare paypal in una vera macchina da cash flow ovviamente però adesso per lui inizia la fase più difficile deve dimostrare che non è soltanto un parla parla ma che riesce a mettere in atto quello che dice questo ovviamente lo scopriremo soltanto vedendo l'evoluzione della società però diciamo che è piuttosto fortunato parte abbastanza avvantaggiato perché si ritrova a gestire una società veramente fantastica una macchina da cash flow nell'anno fiscale 2023 che è molto vicino al termine la società genererà più o meno 5 miliardi di free cash flow e lo stato patrimoniale è assolutamente fantastico con 11 miliardi in cash e disponibilità liquide e 4 miliardi di dollari in investimenti a lungo termine oltre a questo anche la fortuna di trovare un'azione con un presto free cash flow di 10 quindi hanno una marea di cash generano una marea di cash e l'azione è molto sottovalutata potenzialmente quindi potrebbero fare un sacco di buyback perciò alex chris potrebbe avere davanti un gran futuro potrebbe essere in grado di far crescere moltissimo il valore della singola azione adesso non ci resta altro che aspettare e vedere se alex chris sarà in grado di cambiare il destino delle azioni paypal ma state tranquilli che se sarà in grado di performare decentemente l'azione salirà sicuramente da questi livelli dovrebbe sbagliare tutto perché l'azione continuasse a scendere quindi direi che le probabilità sono più verso un ottimo successo una buona crescita delle azioni piuttosto che verso una continuazione del crollo a mio avviso e non è un consiglio di investimento ovviamente per questo video è tutto ricordatevi di dare un'occhiata a freedom24 il broker che sto utilizzando ormai da quasi due anni trovate il link affiliato nella descrizione sotto questo video e ricordatevi per favore di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale e di condividere il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao